Gesù è l'amore di Dio e dopo ne viene fuori solo uno Ora capirai anche quello che Gesù ha detto pensando all'esempio che Dio ha fatto Dimorare significa vivere Quindi l'amore suo si mischia con il nostro e insieme diventano solo uno Gesù ha spiegato che Dio lo ama e che lui ama noi nello stesso modo proprio come tuo nonno che ama il tuo papà ed il tuo papà ama te nello stesso modo Gesù dice ancora che se ubbidiamo ai suoi comandamenti lui ci amerà proprio come lui avendo ubbidito a suo padre vive nel suo amore Non è facile capire C'è l'amore di Dio che ha un colore è il nostro amore che ne ha un altro Ma tutti questi colori si mischiano e viene fuori solo un colore il colore dell'amore di Dio L'amore è come la plastelina Si può trasformare e realizzarlo in tante cose buone anche da dare agli altri e può prendere tantissime forme Allora io ti chiedo di imparare a memoria il volere di Dio e di Gesù Amatevi gli uni e gli altri come io amato voi Allora io ti chiedo di Dio